Buongiorno da Edo, siamo tornati qui dopo i bagordi, le feste, le grigliate del primo maggio e di vari ponti per tornare a vedere un po' che cosa succede nel mercato dell'IT, che è quello di cui vi vorrei occupare in questo podcast. Prima di addentrarci nella news del giorno, che come avete visto dal titolo o dalla cover, insomma, verterà sul nuovo gadget AI che promette il mondo, naturalmente poi vedremo che cosa ha deliberato, che è il Rabbit R1, però prima un piccolo aggiornamento su una cosa che avevamo seguito tempo fa, mesi fa, che è la vicenda, lo scandalo del post office in Gran Bretagna. Il post office è l'ufficio postale britannico, cioè le poste britanniche. Vi lascio a qualche parte qua il link della puntata in cui ne avevamo parlato con un po' di dettaglio se non vi ricordate. Cerco di riassumere un attimino la vicenda. Lo scandalo è relativo a un software che si chiama Horizon, che era sviluppato da Fujitsu, che era sviluppato da Fujitsu, fornitore, appunto azienda giapponese, fornitore delle poste britanniche. Bene, questo software, che serve per gestire gli uffici postali, contiene un bug, conteneva un bug, e questo bug causava degli ammanchi di denaro nella rendicontazione proprio di fine giornata. Ora, Fujitsu era a conoscenza di questo bug. Gli operatori, quindi i direttori degli uffici postali, avevano segnalato che il software gli dava delle cifre che non tornavano. Ebbene Fujitsu, invece di riconoscere il bug e magari fixarlo, no, invece ha incolpato gli stessi utenti, quindi gli stessi gestori, amministratori, direttori degli uffici postali, in pratica di manipolare le cifre, e quindi poi sono stati accusati di sottrarre denaro alle poste, e per anni queste persone hanno dovuto fronteggiare cause legali, hanno dovuto pagare di tasca loro gli ammanchi, e quindi si sono indebitati, insomma per molti è finita parecchio male, fino che tutto lo scandalo è stato scoperchiato e Fujitsu è stata costretta a scusarsi, a creare un fondo per coprire le spese di tutte queste vittime. Insomma, questa era la vicenda fino adesso, poi tra l'altro all'inizio di quest'anno era uscita una serie tv, una fiction in britannica appunto, che raccontava di questa vicenda. Bene, la notizia è che la prima camera del Parlamento britannico ha passato qualche giorno fa una legge che si chiama Post Office Horizon System Offenses Bill, e il cui intento praticamente è di mettere al riparo, risolvere le questioni legali di tutte queste persone coinvolte, e quindi chiudere la vicenda almeno dal punto di vista legale per tutta questa gente che è stata coinvolta naturalmente ingiustamente in questo scandalo. Ora, questa legge deve passare anche alla Camera dei Lord, però insomma si suppone che questa roba passerà, e quindi che almeno dal punto di vista legale queste persone saranno finalmente tutelate, questo scandalo finirà, naturalmente rimane poi tutta la compensazione economica a cui Fugito dovrà provvedere, però bisognerà vedere naturalmente anche come verranno ripagate queste persone tutti questi anni in cui sono state coinvolte, in quello che il Premier Rishi Sunak ha definito il più grande errore giudiziario della storia della Gran Bretagna. Insomma, volevo dare un po' questo aggiornamento che avevo letto, quindi mi pareva carino per chiudere anche questa notizia che abbiamo seguito, e poi naturalmente se arriveranno aggiornamenti saremo sempre qua a darli. E ora ci tuffiamo nella nuova era dei dispositivi AI Powered con le recensioni di Rabbit R1. Vediamo un po'. Allora, il 3 maggio ho aspettato un po' che uscisse la recensione di The Verge, perché quando si parla di device tecnologici, insomma, è quello che mi dà più soddisfazione appunto leggere la recensione di The Verge, però vi anticipo che sia questa recensione non è positiva, ma anche tutte le altre recensioni che più o meno ho visto in giro non sono particolarmente positive. Le positività di R1 si concentrano più che altro sul lato estetico, costruttivo del giocattolino, ma tutto il resto invece è abbastanza criticabile. Ma un piccolo recap, qua vedete intanto una foto, un'immagine di R1, così vi fa anche capire di che cosa stiamo parlando. Vi faccio io un piccolissimo recap, ne avevamo parlato qualche mese fa, perché al CES di Las Vegas era stato presentato questo device appunto, Rabbit R1, una nuova startup, Rabbit appunto, il cui CEO si chiama Jesse Liu, e insomma questo device promette, prometteva un nuovo modo di interagire con l'AI, insomma in generale, ma anzi un nuovo modo per interagire con le app di tutti i giorni, perché attraverso l'AI, e attraverso un sistema che Rabbit stessa ha chiamato LAM, quindi non LLM, ma LAM, quindi Large Action Model, ecco un sistema che consentirebbe a questo dispositivo di interagire con le app dell'utente, con tutte le app che l'utente ha installate sul proprio smartphone, attraverso l'apprendimento di come queste app funzionano, quindi è un po' come se questo device controllasse per voi le app che avete sullo smartphone, e vi permettesse di controllarle con la vostra voce. In effetti ha fatto un po' di demo proprio al CS, in cui mostrava alcune di queste interazioni, comandate dalla voce, e insomma tutto pareva bellissimo, fin troppo a dire la verità, e la dura realtà è arrivata adesso con la commercializzazione, anzi la spedizione, dei primi esemplari di R1, e come dicevo le recensioni non sono assolutamente positive, ma vado un po' a scorrere alcuni punti salienti della recensione di The Verge, che si apre con un piccolo racconto. Stavo seduto al tavolo del mio caffè, e stavo tenendo in mano questo device da 199 dollari, quindi vi ricordiamo che il prezzo appunto del dispositivo che è disponibile soltanto negli Stati Uniti è di 199 dollari, e ho puntato questo gadget, la telecamera di questo gadget, al cibo che aveva in mano, e con grande sicurezza l'R1 mi ha detto che quello che avevo in mano era un taco, in realtà era un dorito. Ora, la differenza tra taco e dorito è che il taco è una patatina, il dorito è una specie di paninone, di panino insomma, croccante. Insomma, a occhio dovrebbe essere abbastanza facile capire la differenza tra un taco e un dorito, ma apparentemente non per R1. Ho, dice poi il recensore, ho provato a prendere il pacchetto delle patatine, giraglielo, insomma, fagli vedere un po' l'intorno di questo pacchetto, ma di nuovo il device mi ha detto che questo era un taco e questo ci fa capire anche un po' quali sono i meccanismi di interazione con questo device. Questo device ha uno schermo, uno schermo piccolino, poi ha due pulsanti fisici, uno è una rotellina, quindi che si può girare per scorrere un menu, e l'altro è proprio un bottone che si deve premere per attivare il microfono e quindi iniziare a parlare. Poi ha uno speaker sul retro e l'altro meccanismo di input è una telecamera. Una telecamera è che anche questa si può ruotare per farla girare verso l'utente oppure alle sue spalle. Non ha due telecamere fronte e retro, ma ha una sola che si gira avanti e indietro. E con questa telecamera si possono inquadrare delle cose e poi chiedere all'R1 che cos'è la cosa che sto inquadrando. Ed è quello che ha fatto il recensore con il suo Dorito, che in realtà l'R1 ha scambiato per TACO. E quindi poi si procede con questa recensione. Da quando R1 aveva debuttato al CES, sto leggendo, questo dispositivo è stato venduto come un assistente AI super intelligente e di super aiuto, super aiutante. Helpful come lo potremmo tradurre? Aiutante? Aiutativo? Utile? Utile? Doveva venirmi utile subito? Proseguo. Invece di rispondere semplicemente a domande in stile GACPT, avrebbe dovuto fare qualsiasi cosa che fa il vostro telefono, ma più veloce. Ecco, qualche mese dopo, questo dispositivo è sulla mia scrivania, ma non ha alcuna attinenza con quello che era stato mostrato in quella demo e che poi più di 100.000 persone hanno preordinato, basandosi proprio sulle promesse. Ecco, ora si parla del LAM, cioè il Large Action Model. Ora, dice la recensione, mentre un Large Language Model è fatto per analizzare e creare testo, il Large Action Model è pensato per fare cose. Ebbene, in pratica non c'è alcuna prova che il LAM funzioni nel R1. Questo device attualmente ti consente di connettere quattro app, al massimo quattro app, che sono Uber, DoorDash, MidJourney e Spotify. Quindi connetti queste app aprendo la web app, quindi la versione web di Rabbit, che è chiamata Rabbit All, e poi devi loggarti, devi mettere le tue credenziali per loggarti su questi servizi individualmente. E quindi quando lo fai, dice la recensione, Rabbit apre un browser virtuale dentro l'app e ti fa il login direttamente quindi non ti stai loggando con un servizio via API, ma di fatto Rabbit sta prendendo le tue credenziali e sta facendo il login al tuo posto. Quindi se avete capito è una specie di finto browser, come quando si usano i browser per fare i test end-to-end, con Playwright o Cypress, quindi c'è qualcuno che controlla, c'è un software che controlla il browser e che poi immette gli input nelle caselle dei form al posto vostro. Questo vuol dire che deve avere gli input testuali per farlo, username e password. Ora, Rabbit dice che queste credenziali sono protette, ma, dice il recensore, il processo sembra un pochino insicuro. Ora, io naturalmente non mi posso esprimere sulla sicurezza di questo processo, mi baso al momento su due evidenze. Una è quella che dice Rabbit che le credenziali sono sicure, l'altra è quella di questa recensione che dice che c'è il browser virtuale dove Rabbit R1 inserisce a mano nei form username e password. Insomma, avete capito che Rabbit controlla un browser e poi via browser si connette ai servizi delle app e prova a fare cose, insomma, secondo le istruzioni che ha ricevuto. Insomma, poi prosegue il recensore, ha fatto il login in tutte le quattro app disponibili per questioni giornalistiche, anche se non si sentiva molto sicuro. Non ce l'ha fatta su MeJourney perché non è riuscito ad andare oltre il CAPTCHA che ha scoperto che il browser era un robot. Invece è riuscito a loggarsi su Uber e DoorDash ma non è riuscito a utilizzare nessuno dei due servizi. Quindi non è riuscito a farsi portare del cibo a casa e non è riuscito neanche a ottenere un passaggio da Uber. Quindi zero passaggi zero pasti. Poi ha provato a usare l'integrazione con Spotify e tutto sommato non è andata come previsto insomma perché chiedere a Spotify di lanciare delle playlist o anche semplicemente delle canzoni non ha portato al risultato sperato. In pratica da quello che dice il recensore funziona meglio Alexa o funziona meglio Siri di R1 nonostante questo dovrebbe essere un large language model sotto il cofano che dovrebbe riconoscere bene i testi ma a quanto pare non è così. Circa un terzo delle volte chiedendo R1 di suonare un pezzo una musica un album non succede niente viene fuori solo un testo che dice la musica sta arrivando ma in realtà poi non arriva nulla. Quindi alla fine per riassumere tutte le cose belle ambiziose interessanti che rendevano questo device potenzialmente diverso dagli altri non funzionano anzi probabilmente non esistono. Quando dice poi questo stesso recensore ho provato la demo in mano mia al CES proprio di Las Vegas ero lì con il founder Jesse Liu che si lamentava del wifi per il fatto che R1 non riuscisse a fare tutte le cose che aveva poi mostrato sul palco e quindi in pratica gli aveva detto tante cose non funzionano perché purtroppo il wifi non riesce. Ora dice sempre The Verge penso che il wifi funzionasse correttamente quindi lo dice qua velatamente questo recensore però possiamo leggere tra le righe che praticamente si è trattato di una mezza truffa ecco si sta configurando insomma come una mezza truffa naturalmente non ci permettiamo e non si permette di accusare di truffa Rabbit però insomma questo è quello che tra le righe si può riuscire a leggere parlando invece di quello che rimane a R1 togliendo tutte le promesse del large action model ecco rimane un'interfaccia via voce quindi con il microfono per un large language model che è perplexity che è un motore di ricerca basato su AI insomma praticamente R1 diventa una macchina dedicata a perplexity e non è che funzioni male in questo senso nel senso che effettivamente si comporta come un'interfaccia su perplexity il problema a questo punto diventa perplexity stesso che come tutti i large language model del momento sono soggetti allucinazioni spesso non danno la risposta corretta e insomma quindi sappiamo benissimo cosa aspettarci ecco da un AI in questo momento quindi alla fine come con Humane qui si fa naturalmente il paragone con l'altro device super pompato basato su AI che è uscito recentemente l'AI pin di Humane ora Rabbit sta scommettendo tutto il suo business sulla bontà dei sistemi di AI quindi sui sistemi di large language model ma finché questi sistemi non diventeranno migliori di come sono adesso la cosa non potrà funzionare molto bene insomma alla fine pare che la feature migliore di questo R1 sia il voice recorder c'è la possibilità di prendere appunti vocali quindi basta premere il tastino laterale e dirgli start the voice recorder questo parte l'app che fa appunto da registratore vocale a questo punto il registratore vocale funziona abbastanza bene tant'è che riesce anche a prendere le registrazioni fare un sommario un riassunto via AI e salvartelo in Rabbit Hole in un'app che prende le note il problema è che 200 dollari per un voice recorder insomma sono un pochino tanti poi chiudiamo con la feature vision che è quella feature che dovrebbe riconoscere gli oggetti proprio attraverso l'AI come aveva visto all'inizio con il taco e il dorito non sembra funzionare molto bene funziona però benino con i monumenti cioè con le cose che sono super fotografate super commentate nel mondo quindi per cui ci sono un sacco di dati ecco pare riconoscerle abbastanza bene quindi monumenti storici pare riconoscerle abbastanza bene il problema è che con tutto il resto invece non funziona e un'altra cosa che non funziona molto bene è la batteria a quanto pare basta un'ora di uso di questo device per sfiancare completamente la batteria e anche in stand by dopo 5-6 ore diciamo che si arriva abbastanza a terra quindi cosa rimane di questo R1 a seconda di questa recensione di The Verge ma vi assicuro che un po' in generale con tutte le altre siamo su questi toni alla fine rimane un ornamento per la scrivania molto carino bellino con un arancione anche piuttosto bello da vedere però che costa 200 dollari quindi non so se valga la pena spendere 200 dollari per una cosa di questo tipo poi c'è anche un altro problemino c'è il problemino del concetto stesso di Rabbit R1 che dovrebbe essere un device che ti porti in giro con uno schermo un microfono e un speaker a cui impartisci delle istruzioni per usare delle app non ricorda qualcosa naturalmente come dice anche la recensione certo questa roba qua va direttamente a competere con lo smartphone con il tuo smartphone che comunque ti devi sempre portare in giro e quindi se puoi andare a competere con lo smartphone facendo però molto meno e molto peggio di quello che fa lo smartphone insomma è probabile che tu abbia qualche difficoltà quindi alla fine ottieni una versione peggiore con molto meno funzionalità di uno smartphone che ti devi comunque già portare in giro ma insomma quale dovrebbe essere il selling point di questo dispositivo ma non solo c'è anche una beffa incredibile scoperta da qualcuno che poi ha scritto a Android Authority e lo riporta anche Diverge stesso a quanto pare l'intero Rabbit R1 non è altro che una versione molto leggera di Android e un'app quindi c'è su questo device ha installato una versione a OSP di Android e l'intera interfaccia di Rabbit R1 è un'app Android che quindi potrebbe funzionare tranquillamente anche su uno smartphone questo l'ha appunto l'ha scoperto qualcuno che ha mandato poi tutte le sue informazioni e l'APK stesso di questa app l'APK è la versione dell'app Android che è bandlizzata quindi che si può poi installare su altri device quindi l'ha mandato Android Authority che ha fatto l'installazione se state guardando qua adesso vedete gli screenshot dell'app questa è esattamente l'app di Rabbit e qua vi faccio vedere anche un video vedete che questa app installata su un pixel 6a è esattamente come appare sullo schermo di Rabbit R1 vedete che la porzione di schermo che occupa è molto più piccola perché questa è la dimensione in pixel dello schermo di R1 quindi è tutto ottimizzato per quella dimensione lì però è la stessa app funziona esattamente nello stesso modo tra l'altro mappa rimappa i bottoni di R1 sui bottoni fisici dello smartphone e quindi si può comandare direttamente dello smartphone è venuto fuori quindi questo mini scandalo in cui la gente si è accorta che il tutto non è altro che una versione modificata di Android con un'app ma è arrivata la risposta ufficiale di Jesse Liu di R1 appunto che secondo me è un po' confusa mettiamola così non so bene come altro dirlo ve la leggo vi leggo alcuni punti salienti dice Rabbit R1 non è un'app Android parte così non è un'app Android siamo consapevoli che esistono alcuni emulatori quindi li chiama così qua emulatori non ufficiali dell'app di Rabbit OS e del sito web quindi dice Rabbit R1 non è un'android app esistono alcuni emulatori degli emulatori di Rabbit R1 poi però dice Rabbit OS e LAM quindi Large Action Model girano in cloud con a basso livello una versione molto piccolina di Android quindi di Android AOSP con piccole modifiche lato firmware e quindi una APK bootleg quindi una APK sottratta diciamo a R1 senza il sistema operativo corretto e senza gli endpoint cloud configurati non può accedere ai nostri servizi Rabbit OS è customizzato per R1 e non sopportiamo cloud di terze parti a questo punto qua sta parlando di bootleg APK quindi di APK e non più di emulatore non so perché ha voluto confondere questi due piani quindi è un emulatore o è davvero un APK con una versione non autorizzata di R1 non si sa e comunque conclude dicendo ci raccomandiamo con gli utenti di non installare questa APK non usarla perché non è sicuro e comunque non la supportiamo ufficialmente quindi boh vedete è un po' strano è un po' confuso questo statement ufficiale prima parla di emulatori poi parla di APK non autorizzati poi parla di servizi cloud di AOSP insomma boh fatto sta che non credo che qualcuno si sia preso la briga di replicare tutto il funzionamento di Rabbit OS in un'app Android oppure di scrivere un emulatore apposta per quale motivo uno dovrebbe scrivere un emulatore per R1 senza nessun ritorno economico non ha senso quindi mi pare che la cosa più probabile più evidente è che effettivamente su R1 giri una versione leggera di Android e che l'app Rabbit OS sia effettivamente un'app Android ma non c'è niente di male in tutto questo non capisco perché negarlo anzi Android è la scelta migliore in questo caso per far girare un'app di questo tipo su un device che tra l'altro gira un processore ARM quindi non capisco perché negarlo insomma mi pare una scelta sensata logica però è così quindi sappiate che per 200 dollari potrete comprare quando sarà disponibile anche in Europa un device molto bellino esteticamente con uno schermo un po' piccolino però una versione molto leggera di Android e magari in futuro la possibilità di utilizzarlo anche con un large language model un pochino più raffinato insomma ma in ogni caso oggi avete un ottimo registratore vocale inserito nel guscio di un dispositivo che ricorda i piccoli giocattolini degli anni 80 che comunque fa sempre piacere avere in mano o invece sapete qual è un ottimo dispositivo che sostituirà lo smartphone e vi permetterà di comunicare con gli AI e i large language model lo smartphone appunto e vi do tre esempi di modi con cui gli smartphone appunto già adesso ma anche nei prossimi mesi arriveranno a farvi utilizzare gli LLM sia in locale quindi con linguaggi più piccolini con modelli più piccolini e più attenti le risorse ma anche in cloud prima partiamo da quest'ultimo con Cloud quindi con Antropic che rilascia il chatbot il client per il chatbot Cloud per iOS è in pratica già quello che succede con ChatGPT avete il client che potete installare come app ecco ora è arrivato anche il client per Cloud quindi è praticamente soltanto l'interfaccia naturalmente tutto rimane computato in cloud però adesso avete anche questa bella interfaccina questo bel client per iOS arriverà anche la versione Android al momento è disponibile per tutti gli utenti di Cloud sia per quelli free quindi piano free che per quelli che invece pagano per Cloud Pro i 20 dollari al mese per Cloud Pro e anche per tutti gli utenti di Cloud Team le altre due cose che vi voglio raccontare sono modalità di utilizzo degli LLM in locale sugli smartphone che vuol dire naturalmente creare dei linguaggi dei modelli più piccolini come vi ho detto ebbene ve ne do due il primo è quello di Microsoft che si chiama Fai3 o Fi3 insomma è P-H-I quindi non so come pronunciarlo Fi lo pronuncerò Fi si chiama Fi3 Fi3 mini anzi e la sua caratteristica principale è di avere prestazioni considerevoli ma in dimensioni ridotte che lo rende appetibile per l'installazione locale sui dispositivi come gli smartphone questo è un articolo che trovo su D-Day a firma del mitologico Sergio Donato ora Fi3 mini ha 3,8 miliardi di parametri ma è stato addestrato su ben 3.300 miliardi di token questo articolo poi si sofferma tecnicamente sulla differenza tra parametro e token quindi vi consiglio di davvero leggere si intitola Microsoft Lancia Fi3 mini insomma lo trovate su D-Day vi do soltanto qualche piccolo highlight il parametro di un LLM è un valore che il modello apprende durante l'addestramento e servono a individuare le relazioni tra le diverse parole e frasi del linguaggio consentendo al modello di generare risultati simili a quelli umani insomma i parametri sono questi mentre invece il token è la parola è l'oggetto quindi nel caso di Fi3 mini si sta parlando di 3.300 miliardi di token quindi sono parole o pezzi di parole che sono state lanciate che sono state inserite nell'addestramento e quindi più grandi naturalmente sono questi numeri e maggiori sono le capacità del LLM stesso ora il fatto è che questo piccolo modello quindi Fi3 mini è stato testato con successo su iPhone 14 quindi in locale dice Microsoft grazie alle sue dimensioni ridotte Fi3 mini può essere quantizzato a 4 bit in modo da occupare solo circa 1,8 GB di memoria la quantizzazione praticamente è un'ottimizzazione dei pesi dei Legend Language Model quindi quantizzando i pesi si riesce a ridurre le dimensioni si riducono anche si riduce anche la qualità del risultato però qua naturalmente serve trovare un compromesso tra la qualità dei risultati e le risorse occupate quindi dice Microsoft abbiamo testato il modello su iPhone 14 con chip A16 Bionic in esecuzione nativa e completamente offline ottenendo più di 12 token al secondo 12 parole prodotte al secondo dice poi l'articolo avere pesi quantizzati riduce la precisione di questi legami e di conseguenza la precisione del modello perché di fatto si sta riducendo la quantità di informazioni che il modello può utilizzare per fare previsioni sul testo da generare tuttavia ridurre i pesi ha due vantaggi permette di usare meno RAM e di velocizzare le operazioni matematiche richieste per l'inferenza quindi per l'utilizzo vero e proprio dell'LLM secondo Microsoft Fi3 mini ha prestazioni complessive che rivaleggiano con quelle di modelli come Mixtral 8x7b 7 billion e GPT 3.5 ma Apple non sta a guardare e rilascia 8 linguaggi 8 modelli linguistici AI in realtà un collettivo di modelli che si chiama Open Helm Open Helm che sta per Open Source Efficient Language Model che praticamente sono dei modelli più piccolini e pensati per un futuro in cui dovrebbero girare proprio sull'iPhone stesso a questo proposito aspettiamoci magari qualche annuncio al come si chiama al WWDC che sarà a giugno quindi vediamo un po' che cosa ci annunceranno ma insomma per adesso questi modelli di Apple sono disponibili su Aging Face e sono anche disponibili online con Apple Sample Code License quindi non è esattamente Open Source non rientra nella definizione accettata di Open Source però insomma il sorgente è disponibile quindi sono più Source Available per quanto riguarda la dimensione i numeri di parametri token di questi modelli Fitra Mini come vi dicevo ha 3,8 miliardi di parametri alcuni modelli di Open Helm di Apple sono più piccoli alcuni sono più o meno paragonabili quindi si va da 270 milioni di parametri a 3 miliardi e quindi qua trovate gli 8 modelli di Open Helm per fare un confronto pensate che Lama 3 di Meta ha 70 miliardi di parametri ma arriverà una versione da 400 miliardi GPT-3 di OpenAI del 2020 a 175 miliardi di parametri quindi insomma vedete che sono dimensioni ben diverse ma naturalmente la ricerca si concentra nel far funzionare meglio i modelli linguistici con un numero inferiore di parametri in modo da renderli sempre più piccolini peraltro Apple ha rilasciato anche il codice di Cornet che è una libreria utilizzata per allenare appunto Open Helm e ha anche incluso le ricette per allenarlo e insieme ai pesi e questa cosa di solito non si fa sono pochi quelli che rilasciano tutto quanto compreso i pesi ma Apple ha detto appunto nel suo paper che vuole aiutare la ricerca la ricerca nella community open source insomma comunque è lodevole da parte di Apple questa iniziativa mettiamola così ora quindi ci aspetteremo nei prossimi mesi annunci da parte di Apple ma di tutti in realtà dell'inclusione di questi small language model che funzionano anche offline sui dispositivi però si pensa alcuni rumor che si potrebbero affiancare questi modelli più piccolini a modelli che invece sono grandi e funzionano in cloud e in qua naturalmente c'è bisogno di partnership con Google o con OpenAI o come abbiamo visto prima con Antropic quindi il mondo AWS perché al momento Antropic è nella galassia di prodotti AWS allora vi lascio come sempre due link il primo è da leggere vi do un consiglio da leggere oggi e il secondo è da guardare vi consiglio di leggere The Quite Pervasive Devaluation of Front End un articolo di Josh Conley's World trovate naturalmente il link che poi vi lascio nella descrizione l'ha scritto il 7 marzo ed è un po' un'analisi di un trend che pare appunto aver notato o Josh Conley's World di questa svalutazione nel senso di sottovalutazione ecco delle difficoltà che servono per fare front end development e quindi prende un po' di punti forse anche un po' di luoghi comuni ecco sul front end e cerca un po' di demistificare e comunque dire la sua su questa un po' svalutazione ecco di questo tentativo di sminuire ecco chi lavora nel front end spesso da parte di chi invece lavora nel back end sapete la solita diatriba back endisti veri programmatori con il pelo dappertutto invece i front endisti un po' meno ecco qua prende di petto questa diatriba questa polemica e ci scrive questo bello articoletto che se volete leggere qualcosa di tecnico un tecnico adesso parolone che riguarda il tecnico oggi vi consiglio questo articolo qui e poi invece se volete guardare qualcosa di bellino ultimamente mi sto dedicando alla grafica 3D sul browser se avete visto ecco qui c'è questo 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 giochino che non è un gioco in realtà non potete fare niente potete semplicemente navigare questa città vedete con questa visuale isometrica dall'alto e questo giochino si chiama infinitown come vedete è fatto in webgl anche lui e utilizza 3js blender e unity quindi è semplicemente una tech demo in cui potete vedere che cosa come al solito che cosa può fare webgl cosa può fare 3js sul browser vedete che è anche molto fluido sta utilizzando naturalmente la mia scheda video proprio attraverso webgl e la particolarità qui è che è infinito cioè è generato proceduralmente man mano che voi muovete il mouse quindi io posso posso scorrere all'infinito in questa città e non finirà mai perché le nuove caselle del mondo vengono costantemente generate e quindi io posso andare all'infinito con questi quartieri che vengono generati al volo nella mia città quindi è un'idea insomma un proof of concept che magari qualcuno potrebbe anche sfruttare per generare un giochino è simpatico insomma ci sono anche delle macchine che girano ma questo era infinitown vi lascio naturalmente il link se volete darci un'occhiata a esplorare un po' ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi questa puntata del podcastone e-tech spero di rivedervi freschi freschi la prossima settimana con un nuovo aggiornamento di quello che sta succedendo nel mercato ciao